Enzo Longobardi è il mister del quarto grad della squadra di calcio popolare nata un paio di anni fa questa settimana si gioca una chance importante per il futuro buonasera a tutti sì sicuramente il big match di sabato sarà una partita determinante per il nostro cammino ai playoff ci troviamo contro l'albanova che è una squadra molto accreditata era accreditata a vincere il campionato sin dall'inizio noi ci giocheremo tutte le nostre possibilità per arrivare a giocare playoff in casa con due risultati a favore su 120 minuti un campionato quindi che si conferma importante per la squadra e pieno di successi sicuramente lo possiamo chiamare un miracolo calcistico visto che come squadra popolare ci siamo autofinanziati abbiamo delle persone alle spalle come non faccio nomi ma con tutto l'organigramma societario del quarto grad ha fatto un lavoro dietro le quinte eccezionale siamo partiti un po male perché abbiamo pagato lo diciamo lo scotto della categoria poi man mano ci siamo uniti abbiamo fatto gruppo e siamo riusciti ad avere dei risultati importanti un progetto che anche un risvolto sociale proprio a questo proposito voi fate un grosso appello alla città finché facciano da supporter sabato prossimo allo stadio si invito tutti i quartesi amanti dello sport in primis a raggiungere il comunale di quarto alle 16.30 e a sostenere il quarto grad verso la vittoria contro ripeto l'Alba Nova che è una squadra molto blasonata